Per il nonno anno consecutivo il Team Under 17 del nuovo basket aquilano è stato scelto per rappresentare il nome dell'Italia, la nostra nazione ai giochi internazionali FISEC, Federazione Internazionale Sport Educativi, Benemerita, CIO, che vedranno disputare dal 14 al 20 luglio a Genk in Belgio. La settantesima edizione è la più consolidata e storica manifestazione internazionale giovanile, nella quale per una settimana scenderanno in campo oltre mille ragazzi e ragazze, i rappresentanti di nazioni da ogni parte del mondo, che si sfideranno in nove discipline olimpiche. I giovani aquilani, invitati dalla FISEC Iconi, da anni esportano con orgoglio in questa importante rassegna internazionale in nome della città dell'Aquila e dell'Abruzzo, ormai noti in ogni nazione e affronteranno nel loro girone di qualificazione la Spagna, vincitrice dell'ultima edizione, e l'Austria. Per il team del Palangeli, guidato in Belgio da Roberto e Paolo Nardecchia, un'esperienza di altissimo livello, a coronamento di un anno che ha visto la società aquilana rappresentare il capoluogo su un parquet di prestigio nazionale ed internazionale. Alla spedizione, che è patrocinata dalla Fondazione Carispac, da sempre vicina alle attività sportive e sociali del club aquilano, parteciperanno Daniela Aristotile, Riccardo Di Girolamo, Lorenzo Cardarelli, Marco Mancinelli, Riccardo Vespa, Tommaso Spaziani, Nicolò Nardecchia, Davide Di Giovine e Mirko Elleboro.